donna con c'è donna con c'è che avete fatto ti vuoi impicciare dei fatti tuoi sì o no eh calmo calmo fatti tuoi non fatti tuoi ma perché sono fatti i vostri questi sono fatti del rione io non posso soffrire che quei due poveri giovani devono andare lemosinando per un po' di amore io non ho capito che cosa aspettano se sono maggiorenni e si vogliono bene si fa presto no? certo che se io fossi nei panni della ragazza sì aspetterei la carrozza è proprio vero che il padre eterno manda i confetti a chi non tiene i denti per rosicarseli io sono giovane almeno il sangue mi bolle e se stai tanto preoccupato penso a trovarlo per te un marito ah io vero e per chi mi avete preso io per regola di norma vostra gli uomini ce lo apprezzo così con la lingua da fuori e li faccio morire spandecati e di chi ciò ciò non fai per me se ne vieto una concetta trovati un marito cosa da pazzi che è grande che è grande grazie a tutti grazie a tutti